Buongiorno, è il 19 luglio 2019. Un altro giorno in paradiso. Una società perfetta. Guarda e impara. Dal tuo file risulta che interagisci regolarmente con Jordan 2 Delta. Ci sono leggi contro l'amicizia? Il sogno di una vita. È arrivato il tuo momento. Potrai recarti sull'isola. Che diventa un incubo. È venuta in questo momento. La sensazione è che ci sia qualcosa che non va. È una guerra. Per sopravvivere. Abbiamo un prodotto a piedi libero. Fide di me. Non fatevelo scappare! Attento! Hugh McGregor. Aiutaci. Scarlett Johansson. La gente fa di tutto per sopravvivere. The Island. Domenica le 21 sul 20. La ragazza. Ma non fatevelo. La ragazza.